Buonasera a tutti sono Giada, Zaffranocchisia, Clezia. Stasera siamo qua per farvi vedere come viene fatta la pulitura e selezione dei bulbi. Allora, una volta tirati fuori dal terreno, li portiamo qua in laboratorio e vengono ripuliti dalle loro tonache, tolta la madre che ormai è disidratata completamente, viene tolta, se vengono selezionati poi noi li spazzoliamo anche, vabbè quella è una cosa, una scelta nostra non è obbligatorio, spazzoliamo dalla terra in più li soffiamo e vengono divisi per diametro, in pratica divisi come? Allora, questi ogni bulbo, siccome già si sa, genera dai 3-4 bulbi nuovi, di cui un bulbo che farà fiore, superiore a 2,5 di angolo, non so se riuscite a vederlo bene, poi genera altri bulbi così di questa dimensione, poi può generare anche questi bulbi così, piccoli. Allora, io come procedo? In pratica tolgo le toniche di fuori, quelle che vengono in eccesso, che vengono benissimo via, più la madre sotto, questo è importante perché la madre ostacola la fuoriuscita delle radici. Poi una volta puliti, una volta puliti vengono selezionati, come ho già detto per diametro, per misura, vengono selezionati e in pratica questi da fioritura li mettono in una cassetta a sé. Quelli che non faranno sicuramente fiore, che sono questi piccoli o possono essere anche leggermente più grandi, ma sicuramente sono inferiori a 2,5 di diametro, li prendo e li metto in un'altra cassetta a sé. Così facendo, io quando andrò a ripiantare agli inizi di settembre, così facendo avremmo, sapremmo già che i bulbi dove sono stati piantati, i bulbi che sono stati piantati, quelli a 2,5 di diametro, sono a fioritura. Gli altri no. Eviteremo, così facendo, di andare tutti i giorni a vedere se hanno fatto i fiori però bisogna meno una sei volta per settimana un controllo per eventuali malattie e infestanti. Nient'altro da dire che pulitura, le toniche all'eccesso e la madre. Poi asciutti, a metterli asciutti al sole per 10 minuti, soprattutto la parte della base dove genera le radici, per 10 minuti, in cassette, conservarlo in cassette, io uso tipo queste, mi metto un giornale sotto così a trattare l'umidità, al fresco e al buio. Vi ringrazio per l'attenzione, buona serata, arrivederci, saluti!